Salvo la necessità di capire che cosa pensi lei riguardo all'asperimento di Asha nell'inistituzione, voglio parlarvi da madre o a madre e avere una conversazione a me. Fin dall'inizio Asha, fino a di più, ha detto che si ha in un'ottimitazione riguardo il suo esperimento con l'Asha. Ma da madre mi riesco a sentirmi a vivere direttamente da lei grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.